Colpo di scena mercoledì sera durante la seduta del Consiglio Comunale a San Giorgi in Bosco, dove non è stato approvato il bilancio di previsione. Durante la votazione si è registrata l'astensione degli assessori Enrico Zanone e Vittorio Trento della Presidente del Consiglio Comunale, oltre al voto contrario dell'ex sindaco Bobo Miatello, voto contrario anche del gruppo Uniamo, guidato da Fabio Miotti e Fabio Zanfardina di Fratelli d'Italia, che hanno parlato di una proposta di bilancio non condivisa. Questo atto segna una spaccatura importante nella maggioranza che sostiene il sindaco leghista Dario Pettenuzzo e apre nuovi scenari in vista del voto alle prossime amministrative di primavera, che vede già come candidati per San Giorgi in Bosco Fabio Zanfardin di Fratelli d'Italia e l'ex sindaco Bobo Miatello.